a tutta birra ciao michele ciao caro armato senti io ho visto la birra però ho visto anche una sana crepe una sana crepe siamo passati al dessert sei sempre amore mio sono sempre d'amore mio e con noi c'è il nostro amico che beviamo abbiamo una birra del birrificio al maia montecolciano è una birra nera colore diciamo molto più molto che si e quindi siamo entrati sempre in una scelta di birre toscane e la toscana rimaniamo sempre sul tempo una birra molto buona che si sposa molto bene con dolce e infatti infatti c'è stata proposta come da te per questa crepe ecco la crepe è un piatto facile semplice però il raffinato è anche complicato diciamolo eh sì tutto sta nell'impasto e nella cottura bisogna essere un po' avuto certo e con cosa l'hai farcita dentro c'è crema pasticcera e lamponi della besone quindi anche qui diciamo prodotti della zona sono i nostri prodotti tipici toscati perché qui siamo in pratica acquarrata siamo da una parte ci abbiamo il le colline da quell'altra abbiamo la montagna pistoiese e siamo anche una zona felice quindi è proprio una zona che si presta cioè si presta a tutte queste cose allora io tornerei al discorso di prima Michele abbiamo sempre la birra che bene comunque che abbia la sua temperatura assolutamente la crepe va assaggiata va assaggiata e quindi allora io farei una cosa ci lasciamo e voglio vedere comunque la tua recensione su facebook assolutamente alla mia recensione perfetto ciao a tutti ciao Michele un saluto d'amore mio ciao a tutti